Non ci facciamo fare la morale da coloro che hanno lasciato debiti alla città. E' un'Antonella di Nino che non le manda a dire quella che ha aperto ufficialmente la campagna elettorale di Pratola Bellissima con l'incontro di presentazione della lista e del programma nel teatro comunale. Da recupero urbano di Valle Madonna, riconversione dei vecchi edifici scolastici, fino al caldo tema della ricostruzione con le bordate all'avversario Fabrizi per aver confuso il sisma del 2009 con quello del 2016, visto riferimento ai meriti di Lennini. Beh, credo che abbiano fatto anche confusione tra i sisma. Forse, e questo è grave, per un candidato che vuole governare Pratola non sapere la distinzione tra sisma 2009 e sisma 2016. Il commissario Lennini, peraltro bravissima persona, è commissario per l'emergenza sisma 2016. Il 2009 non ha commissari, né dentro né fuori cratere. Peraltro, e questo è un dato che evidentemente non conoscono e neanche hanno avuto il pensiero di andare a trovarlo, il sisma 2009 rappresenta il 99% delle abitazioni lesionate, chiaramente con il nesso di casualità da sisma, più quasi 60 aggregati. Sapete quanto è quello del 2016? Sei case singole. I numeri si commentano da soli. Noi governeremo per i prossimi cinque anni, non è vero quello che dicono che mi dimetterò dopo due anni per candidarmi alle regionali. La parola dimissioni non è contemplata nel mio vocabolario politico. Quando mi candidai al Parlamento non avevo la necessità delle dimissioni, per cui non verrà meno il patto con gli elettori. Esordisce Ladinino per tornare sulla polemica della variante al piano regolatore. che rigetta anche al mittente gli attacchi sulla politica clienterale e sulla scarsa trasparenza amministrativa. Sono uno scivolone dei miei avversari fuori misura. Quando non si hanno argomenti si attacca. La mia amministrazione non è stata soltanto corretta, trasparente, leale. Gli atti sono tutti su amministrazione trasparente. Certo, se non vogliono o non sanno leggere, questo rimane un problema loro. Clientelare? Beh, gli ho detto su questo sicuramente non sanno neanche qual è il significato del termine clientelare. Quindi l'accusa verrà rispedita al mittente. L'ultimissima domanda, una corsa a tre compresa la lista fantasma. Quindi sarà in sostanza una corsa a due competitor dimezzati rispetto alla campagna elettorale di cinque anni fa. Ci sarà inevitabilmente una polarizzazione del voto. Quindi come cambierà la campagna elettorale? Per noi rimarrà la stessa, una campagna elettorale serena, fatta di contenuti. Continueremo a dire ai nostri cittadini quello che abbiamo fatto tantissimo in questi cinque anni e quello che faremo nei prossimi cinque anni.